Ciao ragazzi, finalmente come vi era stato promesso abbiamo realizzato questa clip video con la partecipazione, cosa molto bella, degli azionetti delle nazionali, sia maschile che femminile. Abbiamo appunto filmato questi esercizi che voi vi consiglio di fare vivamente quando durante la giornata, stando in casa, trovate uno spazio per fare questo tipo di esercizi e state certi che la condizione fisica rimarrà. Rimarrà e se perderemo qualcosa sarà veramente poco. La cosa più importante è mantenere però tempi e sequenze come vi è stato detto 30 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa e ripetete queste sequenze anche variandole noi ve ne abbiamo proposte due, almeno due ma meglio tre volte al giorno. State sicuri che con questo vi darete in forma, sarà anche un bel divertimento mettete della musica di sottofondo che è molto importante per dare stimoli e appena ricominceremo a giocare a pallamano, che è la cosa più bella che possiate fare state certi che riprenderete con una condizione, se non dico ottimale, ma almeno accettabile. Buon lavoro a tutti!